Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Quarta di Copartina. Tranquilli, non ho ancora scritto un libro per adesso, sono qui a intervistare la presentatrice di questa bellissima rubrica, Deborah Bocchiardo. Innanzitutto ti ringrazio per essere qui. Come sta andando questa esperienza con questa tua rubrica che è molto seguita, devo dire? Ma intanto io ringrazio te Cristina che ti sei prestato a fare da intervistatore a me, quindi abbiamo fatto questa inversione di ruoli a ridosso della pausa di Pasqua, per cui poi io tornerò a occupare la tua postazione da dopo Pasqua in poi. Quarta di Copartina come idea è nata grazie a Magda Bersini e Andrea Solavagione che in autunno mi hanno chiesto se volevo fare una rubrica sui libri, ed era una cosa che a me sarebbe sempre piaciuta, insomma era un'idea già in embrione da un po', però era stata buttata lì qualche volta ma non avevamo mai approfondito il discorso. Poi Magda è stata più decisa e ci siamo incontrate, abbiamo tentato di partire, ma il lockdown autunnale ha posto fine all'avventura in pratica, prima ancora che iniziasse. Poi abbiamo cercato di ripartire a febbraio e stavolta invece ce l'abbiamo fatta, è molto molto facile partecipare, basta scrivere a me a deborabocchiardo-gmail.com o contattarmi attraverso i social e si registra in totale sicurezza. Per adesso piace, addirittura poi ci sono dei problemi un po' strani, nel senso che siamo stati contattati da una docente dell'Università di Iena, che ovviamente poi per motivi di distanza non è venuta a trovarci, però internet ti apre una finestra sul mondo, per cui non siamo più collegati al contesto locale, siamo collegati in realtà al mondo intero, per cui ci stanno arrivando anche dei riscontri da località, anche distanti dal Piemonte. Sì, anche perché comunque in questo periodo tenere convegni, fare conferenze per sponsorizzare i propri libri è molto difficile, quindi questa è un'alternativa diciamo molto efficace, soprattutto perché il mondo di internet ti permette di venire a contatto con persone nuove e un pubblico molto più ampio. Ecco, tu sei giornalista e scrittrice, come è iniziata la tua carriera? Quando hai capito che la tua passione, il tuo talento era la scrittura? Ma allora, la scrittura è una passione che io ho fin da bambina. Io ho avuto la fortuna di avere una nonna che aveva fatto la seconda elementare e mi leggeva le fiabe tenendo il dito sotto le parole. Quindi io ho cominciato a imparare a leggere collegando le parole sotto cui lei teneva il dito al significato del suono e quindi ho iniziato poi a scrivere abbastanza presto ed ero una bambina strana che comunque teneva il diario quando era piccola. Quindi diciamo che la passione per la scrittura è cresciuta un po' con me. Poi durante gli anni dell'università mi sono appassionata al teatro, quindi la scuola di teatro, alcune esperienze in quell'ambito e poi come sempre la vita secondo me è fatta a fasi e l'abilità sta nel seguire il mutamento. Quando una fase ha finito comunque di insegnarti quello che ti doveva insegnare è ora di iniziarne un'altra. Fermo restando che tutto quello che ti succede sia nel bene sia nel male ha un senso a tuo vantaggio se tu sei così bravo da strumentalizzare le cose in modo da metterle a frutto insomma. Per cui il teatro ha fatto la sua parte però mi ha insegnato tantissimo. È vero che il teatro magari non ti può dare da vivere e quindi poi magari cambi e fai altre scelte professionali però ti abitua a stare in pubblico e davanti a un pubblico in diretta per cui se in tv la possiamo rifare il pubblico che ha bagato in biglietto ed è seduto in platea non lo vuol sapere che se tu hai dimenticato una battuta. Quindi il teatro ti abitua a sapere improvvisare, ti abitua a rapportarti con chi ti guarda e che è lì in sala e non ammette errori. Quindi è una grande scuola di vita. Poi sono venute le tv, poi la Rai. La Rai era il mio grande sogno una volta che l'ho realizzato e in realtà ha perso il suo fascino. Però tutti i contatti che mi erano serviti per arrivare fino a lì una persona mi ha avvicinato a una visione un po' particolare della vita. Tra l'altro io non sono una persona particolarmente di chiesa ma questo è un personaggio legato al mondo ecclesiale anche di un certo livello e questo mi disse guarda che tu sbagli perché tu hai pensato che la Rai fosse il tuo punto d'arrivo invece la vita è un viaggio e la Rai era una tappa del viaggio per cui tu adesso ti fermi perché devi fare una tappa come se tu durante la camminata in montagna ti fermi per la notte in un rifugio poi però devi riprendere il viaggio perché evidentemente il tuo punto d'arrivo non era quello quindi devi pensare che cosa vuoi e come usare quella tappa per sfruttare la tua vantaggio. E così è nata un'attività di ufficio stampa di cui sono contentissima. Ho iniziato a scrivere libri nel 2011 perché mantenendo una collaborazione con il Risveglio Popolare con cui ho lavorato felicissimamente per quasi 20 anni ho conosciuto Baima Ronchetti di Castellamonte avevano appena fondato la biblioteca degli scrittori piemontesi e mi coinvolsero nel 2011 in questa avventura dicendomi ma tu non hai mai scritto niente e io all'epoca avevo qualche appunto e qualche idea legati al ricordo di Onorina che io avevo scoperto durante gli anni del liceo e questa immagine di donna così indipendente che dopo la prima guerra mondiale era andata in Sud America per poi spostarsi a New York e conquistarsi una fetta di potere e di benessere all'ombra di un mondo prettamente maschile mi era sempre piaciuta, mi era sempre conquistata. E così ho iniziato insomma. A oggi poi ci sono altre esperienze perché comunque la vita è fatta a fasi e quando la fase si esaurisce forse è giusto andare verso nuovi lidi e nuove avventure. Ora come ora hai altri progetti in mente, ti senti arrivata, hai dei sogni, non so. Beh il viaggio prosegue fin quando c'è vita, quindi non so cosa accadrà nei prossimi anni. Adesso vabbè la situazione attuale ha portato con sé dei mutamenti perché non potendo fare presentazioni e non potendo fare mostre perché io lavoro come ufficio stampa soprattutto per eventi, eventi culturali, quindi eventi d'arte, presentazioni di libri, quindi chiaramente il mondo è cambiato. Ho cambiato molte cose portandole su web e questo è servito. C'è da dire che durante questi mesi ci sono state nuove opportunità, quindi io ho dato corpo a un progetto che giaceva lì in una cartellina ormai da tanto e che è il corso di scrittura. Il corso di scrittura sempre grazie a un uso sapiente di internet ha avuto una risonanza nazionale perché non solo durante il lockdown della primavera scorsa è stato seguito da partecipanti un po' di tutto il nord Italia ma adesso è stato, come si potrebbe dire, acquisito da Accademia Domani che è una piattaforma di Roma che lo vende online diviso in 20 piccole lezioni abbinate ad altrettante dispense. Quindi basta andare sul sito di Accademia Domani ed è possibile acquistare il mio corso di scrittura. E questa è la potenza di internet che ti permette di rivolgerti a un pubblico che è nazionale praticamente, anche se siamo nel piccolo, tu a casa tua comunque grazie a questo meraviglioso strumento dialoghi col mondo intero. Questa è una potenza secondo me incredibile. Senza svelare segreti che poi magari ci sono dentro il tuo progetto corso di scrittura Anima Creativa. Che consigli dai ai giovani che si avvicinano alla scrittura ai giovani che magari hanno intenzione di scrivere libri, di entrare in questo mondo? Ma allora, innanzitutto ognuno ha il suo stile quindi io cerco sempre di non snaturare ciò che scrivono le persone che partecipano al corso alcuni hanno uno stile molto diverso dal mio e faccio veramente fatica a volte a non intervenire però io intervengo là dove c'è veramente un errore formale diversamente il corso nasce soprattutto col titolo Anima Creativa perché l'intuizione nasce prima nell'anima e poi viene trasformata in un'opera scritta per cui prima si butta giù quello che viene, quello che ti arriva dal mondo delle idee della tua anima, da chissà dove e poi lo aggiusti col cervello così come bisognerebbe vivere bisognerebbe vivere seguendo quello che ti dice il tuo navigatore interiore che è nello stomaco e poi col cervello cerchi di correggere la rotta quando le due cose vanno in parallelo allora hai raggiunto il livello ottimo la stessa cosa nella scrittura tu butti giù quello che senti perché buttando giù quello che senti permetti a chi ti legge di sentire qualcosa se tu scrivi soltanto in maniera corretta ma non c'è anima chi ti segue lo capisce e non va oltre ed è uno scritto che imbratta tante pagine ma non trasmette nulla quindi il lavoro che si fa durante il mio corso è anche un lavoro sui cinque sensi per abituare ognuno di noi a sentire veramente il mondo intorno quindi non soltanto guardare ma veramente vedere non soltanto descrivere che cosa si mangia ma permettere a chi legge una scena ambientata mentre i personaggi mangiano di capire che cosa sta succedendo quali sono i profumi della stanza in modo da sentirsi veramente all'interno della scena Qual è la caratteristica che noti di più, che guardi di più in una persona che si vuole avvicinare a questo mondo? La fantasia, la tecnica? La tecnica secondo me si può imparare la fantasia non te la dà nessuno io tra i miei iscritti sono contenta di poter dire che ho avuto un'allieva abbastanza avanti con gli anni che aveva quasi superato gli 82 e attualmente ho una ragazzina che ha appena iniziato che ha 15 anni e un ragazzo che ha concluso il corso qualche settimana fa molto bravo, tra l'altro canavesano che ne ha 17 e questo è veramente bravo e oltretutto ha scoperto questa passione per la scrittura iniziando le superiori quindi scegliendo un percorso professionale per poi scoprire di avere questa voglia di scrivere e di esprimersi e ce la mette veramente tutta quello che purtroppo noto e qui non me ne vogliono gli insegnanti perché probabilmente fanno del loro meglio ma la struttura scolastica probabilmente quella che è poi con questa didattica a distanza probabilmente nei prossimi anni vedremo anche di peggio molto spesso ci sono proprio delle lacune e si assomigliano queste lacune nei ragazzi giovani quindi non c'è l'automatismo a mettere l'h davanti alla o quando è verbo avere oppure la E con l'accento il verbo essere viene confuso con la E normale e questi sono errori di base che purtroppo si ritrovano negli adulti a me sembra così strano però ci sono c'è da dire ripeto che la tecnica si migliora le regole si imparano però se tu non hai qualcosa dentro è difficile poi trasmetterlo ad altre quindi la parte più importante secondo me è proprio l'interiorità adesso parlerei un po' delle tue opere dei tuoi libri inizierei da Onorina voleva l'America adesso dovrebbe uscire anche la copertina durante l'intervista ecco mi ha colpito molto come dicevi tu la figura di questa donna che ha questo sogno l'American dream il sogno americano come nasce questo testo? c'è qualcosa di tuo dentro questa esperienza? ma allora Onorina voleva l'America è un titolo che gioca sul doppio senso sia di voler andare in America sia di volere qualcosa di importante Onorina è un personaggio vero ed era la zia della madrina di mia mamma tra me e Onorina non c'è consanguineità la madrina di mia mamma era la figlia del fratello di Onorina io iniziai a sentire parlare di Onorina durante gli anni del liceo proprio andando a prendere il caffè da questa anziana signora e questo personaggio che invece di accettare le regole imposte dell'epoca quindi parliamo dell'indomani della prima guerra mondiale un'epoca che vedeva la donna impegnata come moglie e come madre ma sostanzialmente relegata a un ruolo domestico invece lei riesce comunque a superare questo limite e a prendersi dalla vita ciò che vuole questo secondo me è un grande esempio anche in un momento come questo in cui noi ci lamentiamo ma in realtà abbiamo qualche opportunità in più parliamo di una donna che è vissuta in un'epoca in cui veramente nei nostri paesi non c'era niente meno che meno per una donna che appunto di solito veniva relegata a un ruolo di secondo piano forse importante dal punto di vista esistenziale ma per la sua realizzazione personale veramente le possibilità erano poche e lei invece parte in quarta e va prima a studiare a Torino poi si sposa, si sposta in Argentina e poi a New York e Onorina in Val Chiusella è ancora ricordata oggi perché comunque lei parte dalla Val Chiusella e è ricordata assolutamente non con gelosia mi è successo durante le presentazioni del libro pubblicato nel 2011 da Baimeronchetti editore mi è proprio capitato di incontrare le presentazioni anziani che ancora se la ricordano e la ricordano con grande piacere ricordano i suoi gatti, le sue vestaglie perché lei quando era qui, quando tornava dagli Stati Uniti faceva colazione in giardino e in un'epoca in cui non era così usuale negli anni 50 lei faceva colazione con le vestaglie sempre diverse con dei gatti ben pasciuti e poi in qualche modo rendeva tutti partecipi del suo benessere regalava vestiti ai parenti prestava soldi a chi ne aveva bisogno insomma il suo sogno americano era diventato un po' una forma di benessere condiviso e quindi lei ha lasciato un bel ricordo di sé pur essendo un treno in corsa che si è presa dalla vita tutto ciò che voleva la storia di Onorina è anche un modo per ricostruire la storia intesa come storia istituzionale ma anche per riscoprire un po' la storia locale perché sia in questa sia in qualcosa accadrà io ho cercato di inserire elementi che ho sentito raccontare dai miei nonni da mio bisnonno, da altri anziani che ho avuto il piacere di intervistare o dai parenti emigrati in America per cui si ritrova un mondo ormai scomparso e che spero di aver reso un po' meno a rischio di estinzione proprio fissandolo in un libro perché mi piace pensare che tra 100-200 anni ci siano ancora i libri nelle biblioteche o da qualche parte per cui forse quelle memorie non andranno perse perché il libro di storia ti racconta una storia istituzionale ma i racconti dei nostri anziani raccontano la storia locale che rischia poi di andare persa ecco, hai citato qualcosa che accadrà alla storia di Charlie, giusto? e anche questo rappresenta sempre l'American Dream, no? sì abbiamo sempre e questa è una storia vera, sono il padre, giusto? sì, è la storia del fratello di mio bisnonno è incredibile a volte leggere queste storie qua in quanto italiani che emigravano all'estero e sapere tutti questi aneddoti su come vivevano ricordiamoci che queste persone partivano da paesi in cui non c'era veramente niente cioè noi oggi ci lamentiamo se il termosifono è freddo, facciamo delle tragedie greche queste persone andavano via da paesi in cui non c'era nulla non c'era acqua in casa, non c'era luce, non c'erano prospettive era un canavese in cui non c'era l'industria quindi Charlie scappa di casa a 15 anni nel 1908 per andare in America e a sua volta ha sentito raccontare dell'America dal padre che prima di sposarsi era stato in California aveva lavorato, era tornato, si era sposato e quei quattro soldi erano andati come neva il sole quindi lui parte dentro di sé convinto di trovare l'America e effettivamente ce la fa meno fortunato di onorina si costruisce da solo però ha una grande dignità e una forte filosofia di vita per cui qualcosa accadrà è il suo motto è il suo modo di vedere la vita per cui lui nelle sue lettere spesso scrive qualcosa accadrà non bisogna mai arrendersi perché la vita porta sempre con sé qualcosa il destino porta sempre delle novità quindi bisogna sempre andare avanti e lui si fa forte di questa cosa perché comunque sopravvive alla prima guerra mondiale per cui con tutta la fatica che ha fatto per andare in America in realtà poi torna in Europa come militare rientra negli Stati Uniti ha una gravissima perdita durante la pessima, terribile epidemia della spagnola e non vi dico di chi perché dovete leggere il libro per scoprirlo si reinventa più volte e curiosamente la sua vita ruota spesso attorno alla città di Baltimora è un po' una sua metafora perché la città di Baltimora è resuscitata dalle ceneri di un terribile incendio e quindi c'è un po' anche questo parallelismo di una persona che è molto legata a una città che come lui è risorta dalle ceneri più volte sì ma mi ha molto affascinato questo libro in quanto pensare che sia una storia vera mi fa... sì è molto molto forte sì invece adesso parlerei dell'ultimo, diciamo, primo filone, no? sì in cui abbiamo immagini molto forti visivamente perché si parla, tu tratti di ambienti del nord Europa ma non solo parla di Scozia Express vuoi parlarci di questo libro? sì, allora le storie di emigrazione sono molto belle però quando... allora dopo aver raccontato Norina io pensavo che non ci sarebbero state altre storie poi Aldo, Eugenio e i miei cugini erano ritrovato le lettere di Charlie e quindi era come se lui ce le avesse mandate per spingerci a raccontare la sua storia aveva già atteso cent'anni ed era ora di raccontarla però a quel punto era ora di dare un po' il giro a queste cose qui e ho scelto un nuovo filone volevo una storia che appassionasse che fosse anche un modo per conoscere un altro paese e Scozia Express è una spy story ambientata in Scozia la protagonista è una donna che parte da Torino e va in Scozia però viene coinvolta a suo malgrado in un gioco di spionaggio per cui le mettono qualcosa nello zainetto per cui viene trascinata in un complotto tra spie seguire le sue avventure significa avventurarsi in Scozia comunque vedere come si mangia, come si vive un itinerario di viaggio classico quindi in realtà è un po' un libro viaggio tu potresti poi prendere il libro e fare il percorso di Sabrina in Scozia perché comunque sono indicati anche gli alberghi quindi si può apprezzare Scozia Express a diversi livelli leggerlo come un libro, leggerlo come un libro e viaggiare con la fantasia e poi magari un domani mettere il libro in valigia e partire veramente ecco mi sembra molto diciamo sto cercando di rivivere il viaggio che hai fatto tu nella scrittura di questi libri quindi partendo da Norina poi arrivando alla storia di Charlie poi a Scozia Express e come sei arrivata poi a scrivere Cieli d'Irlanda? beh, allora io avevo fatto un viaggio in Irlanda e avevo visto le scogliere di Moer che sono suggestive sono luoghi comunque, ci sono tanti luoghi nel nord Europa che ci danno il senso di quanto l'esistenza dell'umanità sia breve se paragonata all'immensità del nostro pianeta per cui siamo veramente è come paragonare la nostra vita alla vita di una mosca cioè noi siamo la mosca in questo caso e poi io avevo questi flash come spesso mi accade quando inizio a pensare alla nuova storia mi arrivavano questi flash di una donna con i capelli rossi sulle scogliere a un certo punto ho cominciato a dare spago a questa prima ispirazione ed è nata la storia di Molly che si reinventa dopo la morte del marito quindi una rinascita, una ripartenza lei è un architetto, compra una tenuta e la ristrutturazione di questa tenuta va di pari passo con la sua ristrutturazione di essere umano che riparte, si reinventa con nuovi amici, nuovi percorsi nuovi progetti di vita quindi è una storia secondo me che serve molto a chi ha voglia di ripartire a chi ha voglia di ritrovare un equilibrio a chi ha voglia di riprogettare una vita con elementi nuovi all'interno di questo che può sembrare un racconto più malinconico si inserisce una vena di giallo perché sin dall'inizio c'è una nota stonata che è un personaggio, diciamo, fugace, un'ombra scura a mano a mano quest'ombra si fa sempre più persistente fino ad arrivare al finale in cui verrà svelato tutto il retroscena Nel descrivere questi ambienti, questi paesaggi, tu sei andata a... Sì, tutti i luoghi descritti nel libro sono stati visti dal vivo non riesco a pensare di scrivere un posto senza averlo visto perché comunque vedere un luogo significa viverlo vuol dire aver assaggiato i cibi, sentito i profumi vissuto un pomeriggio di caldo estenuante o di pioggia però comunque tutti questi elementi permettono a quell'ambiente di entrarti dentro quindi permettono a quel nuovo mondo di diventare un po' più tuo e ricordi di essere trasmessi con maggiore intensità Questo si ricollega anche in cinque sensi Esattamente, esattamente E poi c'è l'ultimo libro, La Donna di Swarovski Ecco, un'immagine forte già solo dal titolo Ecco, come hai avuto l'ispirazione oltre a questo titolo questa storia? Allora, La Donna di Swarovski è un'opera d'arte un'installazione realizzata in cristalli Swarovski a dimensioni naturale e in realtà l'idea è venuta vedendo le opere di un artista torinese che si chiama Nicola Bolla che realizza proprio le sue opere con i cristalli Quindi, vedendo il suo atelier mi sono immaginata quest'opera e io l'ho resa ancora più intensa perché la inserisco in un contesto scuro per cui, per essere ammirata, l'opera viene tenuta per un po' al buio L'accensione delle luci fa sfavillare ancora di più le pietre di Swarovski Questo permette un ragionamento sul fatto che la nostra vita è fatta di opposti per cui tu non apprezzi particolarmente la luce se non hai conosciuto il buio Nessuna vittoria ci sembra più importante di quella che viene dopo una lunga lotta per raggiungerla Un sole che arriva dopo un lungo inverno ci sembra particolarmente caldo Per cui tutto questo percorso, questo gioco di opposti fa sì che noi sentiamo di più il mondo e ci godiamo di più la vita Quindi il bene e il male, il buio e la luce devono coesistere per farci proprio vivere a pieno il nostro percorso di esseri umani Ed è un po' quello che succede nel libro Perché questi personaggi durante la crociera che parte dalla Costa Azzurra per arrivare all'isola di St. Michael in Cornovaglia scavano dentro di sé, affrontano il proprio buio e poi alla fine si tireranno le fila di tutti i discorsi di tutti i pregressi di questi personaggi in questo finale a fuoco d'artificio ahimè anche con cadavere e soltanto alla fine si capiranno una serie di nodi che abbiamo incontrato all'inizio Bisogna dire che l'avventura diventa come una pentola a pressione per cui questa crociera è veramente una metafora della vita in cui ognuno di questi personaggi è chiamato a fare i conti con i propri lati oscuri Ecco ma nella scrittura di questi libri a chi ti si è ispirato come autore, come scrittore? Se hai avuto dei punti di riferimento durante la scrittura? Ma allora io ho due autrici americane che come Stile amo molto la parte più amena diciamo così è Daniel Stile per cui ho una simpatia particolare perché quando ho scritto Onorina lei avevo scritto, come si fa prendendo un indirizzo dal sito e lei mi aveva risposto quindi pur essendo credo la romanziera più famosa del mondo aveva trovato tempo per rispondere a me poi vabbè Mary Gisclark è un'autrice di semi gialli che a me piacciono molto e poi come maestro, come stile a me piace molto Dan Brown infatti il libro attualmente diciamo nel cassetto, nel computer è un libro molto più in stile Dan Brown che va un po' a toccare ambienti oscuri un po' come quelli dei suoi libri ma sempre con il linguaggio semplice dei miei libri questo vorrei precisarlo perché una volta la signora mi ha detto però è più pesante no, qui ci saranno gli stessi ambienti, un po' le stesse atmosfere ma con il linguaggio di sempre quindi hai il progetto di scrivere ancora un libro? sì, 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 per adesso sì la bozza io l'ho quasi terminata diciamo così anche se è lì ed è ferma perché in questo momento sinceramente non mi sento di buttare in pasto al pubblico un libro perché non c'è neanche la possibilità di incontrarsi dal vivo per una presentazione quindi mi sembra di dare al libro una vita monca quindi almeno fin quando questa situazione di lockdown non accenderà ad allentare un po' la morsa io tenderei a rimandare però sicuramente qualcosa in più ci sarà ti hai detto che vieni anche dal mondo del teatro questi libri, tutte le immagini a livello visivo? per me il libro nella mia testa è come un film nella descrizione delle scene per me è come se io fossi un fantasma che gira intorno ai personaggi che ci sono sulla scena per cui sento se fa freddo, sento se fa caldo, sento se ci sono profumi nell'aria, se la luce entra o non entra dalle finestre è come se fossi nella stanza con loro e nella mia testa il libro lo immagino come un film per me è così, poi magari per qualcun altro non è così tant'è che io scrivo direttamente a computer perché ho l'urgenza di svuotare il più possibile la memoria lì dentro in modo da fissare tutto e non perdere niente ma lo faccio in maniera istintuale senza soffermarmi sulle virgole, sui punti, sulla punteggiatura, sulla tecnica vado avanti, vado avanti, vado avanti finché diciamo il canale delle idee trasmette magari può succedere che vado avanti per due ore, per tre ore, per un'ora e non me ne accorgo a volte poi quando rileggo non mi ricordo nemmeno di aver scritto quelle cose e poi sistemo in un secondo momento ci torno su, limo, tolgo, inserisco ultime, ancora due domande per far capire al pubblico magari quali sono i tuoi interessi così, libro e film preferito? libro e film preferito? allora, libro preferito? quello che tieni sempre nel cassetto lì, che tieni vicino che proprio ti è rimasto dentro allora, libro che tengo nel cassetto è The Secret che è un po' un must di chi segue un po' le filosofie legate alla legge d'attrazione libro preferito italiano a me piace molto, un libro che è semplice ma che consiglio sempre perché con niente secondo me si è fatto un capolavoro che è Lo strano viaggio di un oggetto smarrito di Basile che io ho scoperto per caso che mi è piaciuto veramente tanto perché appunto da uno spunto semplice riesce a fare un libro che ti tiene piacevolmente incollato alle pagine autore straniero preferito Dan Brown tra i suoi scritti secondo me il simbolo perduto è il titolo più bello ed è quello che ho letto tutto d'un fiato quindi mi è piaciuto allora ti ringrazio per questo film preferito film preferito giusto? film preferito io ho un'attrice che mi ha sempre portato fortuna la mia mail personale ha dentro anche il suo nome ed è Audrey Hepburn quindi film preferito senza dubbio Sabrina ok, grazie mille grazie a te di aver invertito i ruoli in questa piacevole chiacchierata arrivederci a tutti con nuove puntate di Quarta di Copertina è stato un bel viaggio, alla prossima puntata è stata un bel viaggio, alla prossima puntata